Ma come ha fatto a vederlo Nedved? Che stava guardando verso la bandierina Montero, addirittura in zona tiro Ci pensa, si coordina, non calcia Verticale, interessante per Amoruso Nedved dentro per Montero Che grande gol della Juve Segna Paolo Montero 1-1 a mezz'ora dalla fine Genio Nedved Genio Nedved Maestro, ha caricato il sinistro Voleva sparare ma poi ha visto la presenza La possibilità di una trama Meravigliosa come è stata Fantastico gol, merita l'1-1 Anche perché l'ha iniziata lui con quella finta di tiro E poi Amoruso e Nedved gli hanno riconsegnato Il pallone per Battere Bodo Higner Segna un difensore E comunque il piede ce l'ha sempre avuto buono Lo dicevamo, sia per questo passaggio Ma anche per il gol Tocco facile facile La palla di Nedved Mamma mia, aveva già fatto una grande cosa Su Massimo Mauro prima Ma questa è ancora meglio perché mette davanti al portiere Montero Bellissimo 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 Quasi non ci credo Paolo Paolo